Si chiama Orti Alti, è un progetto per realizzare orti di comunità sui tetti degli edifici. Sono quindi tetti verdi pensili intensivi, cioè che sono coltivati ad orto, realizzati su degli edifici in cui ci sono delle comunità che vengono coinvolte nella progettazione e nella gestione di questi orti. È un progetto che tiene insieme l'aspetto ambientale, perché chiaramente questo tipo di superfici permettono di ridurre, di efficientare l'edificio, di ridurre l'inquinamento, le emissioni di CO2, di abbassare l'isola di calore nelle città, permette di coinvolgere le comunità degli abitanti e quindi di rigenerare anche il tessuto sociale delle città e permette anche di produrre cibo, di produrre vegetali che vengono utilizzati dagli abitanti stessi, da chi abita in questi edifici e rimessi anche in circolo in una rete comunitaria di distribuzione dei prodotti.